Tra cielo e terra, la donna e gli emblemi della vita di ogni giorno, il filo conduttore della mostra allestita fino al 21 di aprile a Palazzo Giacomeglia, Treviso. Vediamo. La terra lavorata e cotta, secondo mille tecniche diverse, si presenta il tatto ora ruvida e scabra, ora liscia. Esattamente come l'universo iconico di Olivia Orgnacco che coinvolge l'osservatore con dolcezza e con forza. Tra cielo e terra è il tema, il filo conduttore della mostra allestita a Palazzo Giacomeglia, Treviso fino al 21 aprile. Protagonista principale, la donna. Della condizione femminile, prima che ogni altra cosa, Olivia Orgnacco appare acuta e indagatrice. La donna dell'artista si confonde con gli emblemi della vita di ogni giorno ed è sempre in procinto di perdersi nel labirinto di tanti sentimenti diversi. Si entra attraverso un sipario, incomincia un gioco e ognuno di noi deve decidere che posizione prendere, da che parte stare, in tutti i momenti della vita, in particolar modo in questa mostra dedicata quasi esclusivamente alla donna. Vorrei dire che c'è molto mistero attorno a tutte le altre risposte. È il mistero di ognuno di noi, di ogni donna, dove la donna che deve essere una donna che deve conciliare, che deve essere disponibile a rapporto con l'uomo, con la società, con il lavoro, il che non è sempre facile. E questo è quello che cerco di dimostrare attraverso le mie opere. La donna dell'artista